Ciao a tutti, sono Mattia Bellini, ala delle Zebra Rugby Club e della Federazione Italiana Rugby e oggi ho un messaggio molto importante da condividere con voi. In questi mesi il coronavirus ha compromesso molte situazioni, tra le quali quella dell'educazione dei bambini. Save the Children ha attuato la campagna Riscriviamo il Futuro, alla quale le Zebre e la Federazione hanno deciso di partecipare con alcuni cimeli indossati da noi, tra le quali questa maglietta che ho indossato personalmente contro i Bistro Bears. La campagna ha raccolto più di 1000 euro ed è stato un successo e dimostra ancora una volta quanto il movimento e noi che ci partecipiamo siamo molto sensibili a queste situazioni. Da parte della società e di tutto lo staff e dei giocatori vi ringrazio di cuore e spero di vedervi presto.